Ciao a tutti, sono qui a San Romolo Adesso voglio fare il sentiero Suri, il trail, non dovrebbe essere troppo difficile Vediamo se ce la faccio Voglio togliere quella dietra invece probabilmente l'hanno messa per segnare che invece conviene passare sulla destra Infatti sulla destra c'è il passaggio Grazie a tutti Un po' scassatello Cazzo Ecco questo pezzo non è difficile ma neanche banale Faccio il torrentello Un po' scassatello Ok Un po' scassatello Un po' scassatello